Ciao ragazzi, assalamualaikum a tutti i musulmani e vorrei parlarvi oggi in questo video del decreto sanatorio 2020 che le istruzioni per fare la domanda sono state pubblicate sulla cassetta ufficiale e ci sono 13 articoli ma io non vorrei allungare il video ma vorrei stringere i tempi e darvi delle informazioni utili parliamo dell'articolo 1 innanzitutto il datore di lavoro che potranno fare la domanda dovrebbero essere italiani o comunitari europei e gli ex comunitari in possesso del permesso di soggiorno per lungo periodo cioè carta di soggiorno invece il cittadino straniero che dovrà essere presente sul territorio italiano prima dell'8 marzo e anche non deve aver abbandonato, non deve aver lasciato il territorio italiano e le domande di questo decreto possono essere effettuate dal primo di giugno al 15 di luglio sempre sul sito del ministero dell'interno il link è nullosta.dlci.interno.it la seconda modalità che sarebbe il contratto il rapporto di lavoro e le istanze vanno anche inserite sul sito dell'inps quindi questo è l'articolo 2 invece parliamo dell'articolo 3 che le persone che hanno perso il permesso di soggiorno intendo quelli che fino al 31 ottobre 2019 non hanno potuto rinnovare il permesso di soggiorno perché per vari motivi o non hanno potuto convertire il permesso di soggiorno per x motivi e devono possono presentare l'istanza presso la questura quindi il cittadino straniero che farà questa domanda però deve aver lavorato nel settore di agricoltura e nel settore domestico tipo colf badante o babysitter quindi per il requisito è deve aver poi verrà rilasciato comunque il permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi in attesa occupazione e deve aver con sé il passaporto se nel caso non fosse disponibile un documento equipollente che sarebbe un'attestazione di identità rilasciata dalla dall'ambasciata o dal consolato del proprio paese poi non c'è deve risultare comunque che era presente sul territorio italiano prima dell'otto marzo e non deve aver abbandonato come ho già riferito poi deve comprovare deve dimostrare il lavoratore deve dimostrare che ha lavorato in questi settori agricoltura eccetera eccetera come ho già riferito e però deve essere approvato con della documentazione idonea che comunque questa estanza come come dice il decreto va presentata al alla questura competente ora più avanti vi dirò come allora ora parliamo dell'articolo numero 4 i settori di dell'attività quali sono i settori sono sempre agricoltura allevamento su tecnia pesca e acquacoltura e attività connesse poi assistenza alla persona assistenza alla persona handicap o affetti di patologie ovvero lavoro domestico al sostegno di bisogni familiari tipo golf badanti e babysitter eccetera eccetera ora parliamo dell'articolo numero 5 e di cui parla dei dati degli estremi per per quanto riguarda il datore di lavoro chi farà la domanda deve deve avere con sé il documento di riconoscimento tipo carta di identità valida il nome cognome del datore di lavoro poi sarà saranno i dati che verranno compilati nel modulo chi farà la domanda e questo è per chi farà la domanda con un contratto di lavoro non chi fa istanza alla questura questa è l'altra cosa e parliamo del che lo straniero non deve aver abbandonato il paese dell'italia e in più deve come si chiama comprovare con dei certificati che era presente sul territorio e poi dopo di che il come si chiama sarà anche il datore di lavoro dovrà produrre questo è una diciamo una fase dopo quando verranno convocati dalla prefettura competente e dovranno esibire documenti come ho già riferito poi dopodiché la dichiarazione della retribuzione cioè quanto prendete al mese quanto vi paga al mese il vostro datore di lavoro e durata del contratto quanto dura se è un tempo determinato o un tempo indeterminato poi nella domanda poi andrà indicato anche il codice bar telematico del marca della marca di bollo di 16 euro e poi come si chiama arriviamo al articolo numero 6 articolo numero 6 comunque parla delle delle attività e parla anche delle come verranno compilati i moduli e cosa dovrà dichiarare come vi ho già riferito è quasi uguale come nell'articolo 5 ma poi dopo di che il ora parliamo del datore di lavoro che cosa dovrà dichiarare nel modulo allora nome cognome codice fiscale dovrebbe avere nome cognome codice fiscale residenza luogo di nascita del datore di lavoro poi successivamente il lavoratore i suoi dati nome cognome data di nascita eccetera eccetera e poi un documento come ho già riferito il il passaporto altrimenti e l'attestazione del del consolato poi sarà anche la dichiarazione del della retribuzione del datore di lavoro e contratto di lavoro il la durata del contratto di lavoro soprattutto che comunque dovrebbe essere dichiarata visto che la legge del 19 maggio 2020 il decreto legge della sanatoria che uscita deve dichiarare il rapporto di lavoro prima del di questo decreto poi dopo di che la retribuzione mensile e poi orario orari di lavoro tipo part time o full time quello che è e dopo di che il datore di lavoro inizialmente dovrà pagare il contributo forfettario di 500 euro che poi in più dovrà come si chiama nella dichiarazione come aveva detto in marca d'apollo da 16 euro poi la dichiarazione che deve fare che ha già pagato questi contributi iniziali e forfettari di 500 euro quindi dovrebbe avere questo modulo che ha già pagato e e poi ora parliamo l'istanza che va presentata alla questura ora parliamo di questa come dicevo il lavoratore che ha già perso il lavoro e non ha potuto rinnovare permesso di soggiorno il 31 ottobre 2020 dopo 31 ottobre 2020 allora dovrà indicare la copia del permesso di soggiorno già scaduto e poi dopo di che il codice fiscale allora il codice fiscale qua poi dopo di che parliamo della documentazione idonea di dimora di indirizzo tipo ospitalità che dichiara dove 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 abita poi dopo di che il lavoratore cioè chi richiede per un permesso del soggiorno temporaneo che ha già lavorato nei settori agricoltura colf badanti dovrà produrre dei documenti deve comprovare deve dimostrare con della documentazione che sarebbe contratto di lavoro vecchio quello già scaduto e cedolino busta paga c'è il la busta paga e poi estratto conto previdenziale tipo la lista la stampa del dell'inps dei contributi che ha pagato poi il modello certificazione unica e tipo il cud poi la stampa dell'estratto conto bancario o postale cioè tipo il vostro datore di lavoro che vi ha versato dei soldi del dello stipendio sia nel conto corrente o in ufficio postale se avete conto corrente in banca o in posta allora poi per i colf badanti servono anche i bollettini dell'inps pagati dal sempre dal datore di lavoro per dimostrare che avete lavorato in questo settore e ora parliamo poi di un altro articolo che sarebbe articolo numero 8 ora qui si parla di pagamento dei contributi forfettari e la procedura qual è il datore di lavoro dovrà pagare il modello f20 questi contributi di 500 euro dovrà pagare attraverso il modello f24 e questo modello f24 potreste ritrovare cioè potreste trovare sia dal sito dell'agenzia delle entrate oppure recandosi presso un centro caff padronato eccetera e poi il lì sul modello del f24 dovranno indicare i dati relativi al datore di lavoro il codice fiscale del lavoratore ovvero in mancanza del numero basterebbe indicare il numero del passaporto o altro documento equipolente cioè che sia come dicevo attestazione anche del dell'ambasciata eccetera invece in caso di inammissibilità cioè nel caso che questa diciamo vostra domanda viene rigettata viene rifiutata i contributi pagati forfettari cioè dal datore di lavoro che sono 500 euro non verranno restituiti questa è una cosa che bisogna sapere poi dopo di che nel caso contrario invece il lavoratore come dicevo che ha perso il lavoro e ha dopo 31 ottobre 2019 non ha potuto rinnovare permesso quando farà l'istanza e dovrà pagare la somma di 130 euro quelli 130 euro come al datore di lavoro che non verranno restituiti se viene rigettata la domanda la stessa cosa quelli 130 euro al lavoratore e che presenta l'istanza per un permesso di soggiorno temporaneo non verranno restituiti poi pagando f24 l'agenzia delle entrate trasmetterà questa comunicazione sia all'inps che al ministero dell'interno ora parliamo per quanto riguarda i requisiti reddituali il reddito del datore di lavoro articolo 9 parla chiaramente per quanto riguarda agricoltura il datore di lavoro deve avere il reddito di 30 mila euro 30 mila euro annuali e chi ha un'azienda di agricoltura eccetera eccetera e poi per quanto riguarda quelli i datori di lavoro domestici devono avere il reddito se sono single c'è una persona solo che è una persona sola che vive in casa e deve avere minimo 20 20 mila euro e non inferiore cioè non sotto 20 mila euro invece se ha la famiglia e un nucleo familiare deve avere il reddito annuale di 27 mila euro e spero che sia chiara questa cosa perché molti poi più avanti magari chi avrà dei dubbi comunque potrebbe recare presso un ufficio del caf padronato o altre istituzioni ora parliamo ma comunque questa ok poi parla dell'integrazione ma ora andiamo all'articolo numero 10 articolo numero 10 verifica della prefettura competente che parla modalità di svolgimento di procedimento di cui sportello unico riceve le istanze dalle ore 7 di mattina del primo giugno fino alle ore 22 del primo di luglio e poi verificherà se la domanda è ammissibile o non in più acquisisce dalla questura il parere dovranno acquisire anche il parere della questura se la questura dall ok poi dopo di che acquisisce anche le informazioni dal ispettorato ispettorato territoriale del lavoro quindi oltre questo ora parliamo dell'articolo numero 11 che parla del prezzo di procedure che vanno presentato all'inps e poi verranno fatte le verifiche tramite ispettorato nazionale del lavoro e quindi il numero articolo numero 12 articolo numero 12 parla delle modalità di svolgimento di procedimento come sarebbe e lo sportello uffici di sportello esterno che ok questo è è una cosa che vorrei specificare qui si tratta per quanto riguarda quelli che dovranno presentare le istanze alle poste chi farà la domanda del permesso di soggiorno di sei mesi attesa occupazione temporaneo allora lì e il operatore che sarà lì presente dovrà verificarsi il come si chiama il documento di identità intendo passaporto o attestazione diplomatica rilasciata dal consolato eccetera eccetera e poi dovrà verificare se tutti i moduli sono stati compilati bene e sicuramente questi moduli qua potreste far compilare da un caff padronato o chi si occupa di tutto ciò poi parliamo ora di comunicazione obbligatoria di assunzione allora comunicazione obbligatoria di assunzione come dicevo prima e l'articolo numero 13 parla per quanto riguarda il vostro contatto quindi le istituzioni competenti si occuperanno di tutto ciò allora ragazzi questi sono informazioni utili per fare la domanda della sanatoria 2020 ora l'unica cosa che vi vorrei che vorrei specificare che i richiedenti asilo politico una volta che presenteranno la domanda del di questa sanatoria parliamo chi ha il contratto di lavoro nei settori agricoltura colf badanti e avranno la possibilità di poter rinunciare di lasciare e la protezione interna in che senso non chi ha già avuto un status di rifugiato ma stiamo parlando di quelli che sono ancora in corso le le verifiche o magari sono ancora in audizione non sono ancora stati ascoltati e la commissione ancora deve decidere quello che ma potranno rinunciare il la protezione internazionale di qui per per quanto riguarda questa rinuncia e io vi consiglio di contattare un legale e chiedere delle informazioni in merito io quello che era la cassetta ufficiale vi ho già spiegato spero che questo video vi è piaciuto e condividete gentilmente con i vostri amici e poi ci vedremo negli altri video prossimi ciao ragazzi buona giornata